Quelli che la ricerca la sostengono attivamente. Sono i ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale Fermi di Lucca, nello specifico le classi terza A e quarta B, che hanno organizzato una giornata per la vita a base di forum tematici, tornei, gare di torte e concerti in cui si sono esibiti i ragazzi della scuola con la passione per la musica. Tutto questo con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell'Associazione Agbalt per la cura e l'assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore. Preside, allora, in questa giornata per la vita i suoi studenti hanno dimostrato grande capacità organizzativa, ma soprattutto sensibilità verso un tema importante che è quello della ricerca. Sì, i ragazzi con questa attività hanno voluto soprattutto ricordare un loro compagno che è scomparso qualche anno fa a causa di una malattia molto seria. Lo hanno voluto fare però in modo diverso e originale, diciamo, affrontando veramente il tema della ricerca, della ricerca medica, ma della ricerca scientifica a 360 gradi. C'è stata partecipazione da parte dei ragazzi? Avete trovato un buon riscontro? Sì, sì, infatti queste giornate qui vengono fatte appunto ogni anno da parte dell'istituto e da parte degli studenti che organizzano ogni anno a tema. E abbiamo sempre una grande partecipazione e gli studenti accolgono bene queste giornate che appunto proponiamo noi. A concludere l'iniziativa, lo spettacolo teatrale intervista al Cervello Show di Fabrizio Diolaiuti, un volo semiserio all'interno dei nostri neuroni tra canzoni e riflessioni.